4 novembre del 1918, 97 anni fa veniva firmato l'armistizio con l'impero austro-ungarico che stanciva la fine della grande guerra, cioè il primo conflitto mondiale. Un momento storico ricordato dall'anno successivo prima del regno, poi nel periodo fascista e infine anche dalla Repubblica Italiana. La festa delle forze armate e dell'unità nazionale celebrata oggi in tutta Italia ed anche a Salerno è stata l'unica festa nazionale che istituita nel 1919 abbia attraversato le varie fasi politico-istituzionali. Passata in secondo piano negli anni 80-90, la festa ha ritrovato la sua dignità con Carlo Azzeglio Ciampi. In piazza Mendole a Salerno è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al suo primo 4 novembre, che ha sottolineato l'importanza dei militari per garantire la sicurezza e per sostenere la pace e la giustizia internazionale. Un messaggio, quello citato anche a Salerno, nel quale il Capo dello Stato ha ricordato come quest'anno ricorre il centesimo anniversario dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, una giornata quindi che deve servire per ringraziare uomini e donne in uniforme che continuano ad assolvere i loro compiti sia in patria che all'estero. Oggi festeggiamo e festeggiamo nell'onorare quel grande sacrificio che hanno fatto quei ragazzi di allora. Vedere tutti questi giovani qui presenti in piazza e ricordare questa giornata che per noi è importantissima fa sì che l'esempio di quei ragazzi diventi uno stimolo per acquisire valori che oggi, soprattutto le generazioni di questi anni devono prendere e far proprie andando sulla storia. A tenere a rassegna i vari gruppi in piazza Mendola a Salerno, il prefetto Vicario Forlenza perdurando l'assenza per malattia del prefetto Scolamiero. Oggi celebriamo la giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, una giornata importante che deve andare oltre quello che è scritto sulle pagine di storia per diventare patrimonio di tutti e cultura di tutti nel rispetto di quelli che sono i valori fondamentali della pace e della democrazia, valori che rappresentano una conquista straordinaria per il nostro territorio. Io ho voluto che fossero presenti stamattina ragazzi, studenti di ogni ordine e grado della provincia di Salerno proprio per rappresentare questa ideale saldatura tra passato e presente, non solo perché grazie anche alla scuola i giovani imparino cos'è la pace, cos'è la democrazia, ma che mantengano viva soprattutto questa esperienza e questi valori che devono rimanere assolutamente immutati, ma soprattutto perché a distanza di ormai 100 anni non si ripetano più eventi del genere e in questo credo siamo chiamati tutti noi ad operare quotidianamente perché ciò non accada. Grazie a tutti.